buongiorno a tutti abbiate pazienza rinizio da capo la diretta di prima perché purtroppo trasmetto da casa e il segnale non sempre è molto forte innanzitutto buongiorno a tutti sono claudio rava ed assieme al mio collega fascetti che al momento non è qui con me come dicevo trasmettiamo da casa siamo i referenti per il marchio citroen all'interno del gruppo g come potete vedere oggi appunto purtroppo sono sono da casa quindi non trasmetto dalla concessionaria ma appena avremo modo di tornare alla vita diciamo quotidiana la nostra vita di tutti i giorni vi aspettiamo da noi con estremo piacere come molti di voi sapranno il gruppo g nasce a genova nel 1968 mi piace ricordare un po anche le nostre origini e contiamo oltre alle sedi di genova di schiavari savona e armaritaggia adesso un nuovo concessionario appunto citroen ne rappresentiamo molti marchi aziendali tra cui anche mi piace ricordare bmw moto citroen citroen è appunto il nuovo marchio che a partire dal mese di marzo quindi da questo mese ormai diciamo terminato è stato acquisito come concessionaria dal dal nostro gruppo e per la precisione ci trovate in lungo bisagno dal mazio a genova quindi presso la nostra sede storica aziendale ormai come avrete appreso già anche dalle dirette dei giorni scorsi dei miei colleghi che avrete sicuramente con piacere assistito non possiamo essere al lavoro e così in questo periodo cerchiamo di attraverso queste nostre dirette video di desideriamo di esservi vicini e anche se da lontano poterci occupare di quelle che sono le vostre richieste attraverso il web cercando di fare il nostro lavoro da remoto per quanto ci sia possibile nel migliore dei modi e con la massima attenzione nei vostri riguardi anzi ne approfitto di ricordare permettetemi la parentesi personale anche se non non sono un ministro ma un semplice cittadino che per il bene di tutti dobbiamo stare a casa e dare anche modo a tutte le persone coinvolte infermieri medici forze dell'ordine di poter lavorare nel migliore dei modi e di poterli anche aiutare noi stando da casa di poterci di poterli aiutare nel loro lavoro che ci consentirà di tornare alla normale vita quanto prima durante questa intervista mi raccomando se avete delle domande me le potete tranquillamente sottoporre nell'apposito spazio che vedete sotto al video non so se guardate dal pc o dal vostro telefonino ma potete permettervi di fare tutte le domande che volete alle quali spero ovviamente di poterli saper rispondere nel migliore dei modi no a parte gli scherzi chiaramente cercherò di rispondere a tutte le vostre le vostre domande di cosa desidero parlarvi oggi desidero parlarvi innanzitutto del marchio che rappresento che è citroen perché appunto l'ultimo marchio ad essere entrato nel nostro gruppo e parleremo poi nello specifico della citroen c5 aircross che è il nuovo suv appunto di casa di casa citroen che si inserisce nel segmento c è un interessante suv probabilmente alcuni di voi lo avranno già visto lo conosceranno e per darvi un riferimento di mercato si posiziona al fianco di volkswagen tiguan kia sportage nissan cascai eccetera si propone con un prezzo molto interessante e una ricca dotazione di optional poi entreremo nel dettaglio è senz'altro ci tengo a dirlo il suv più confortevole nella sua categoria grazie a due innovazioni esclusive di citroen che appunto poi vi spiegherò nel dettaglio e nel mondo ha già superato le 100.000 unità vendute citerei ovviamente a mostrarvela chiaramente di diretta dal concessionario ovviamente perché sicuramente vedere l'auto è decisamente più interessante che vedere me che parlo che non sono neanche Brad Pitt quindi indubbiamente l'automobile sicuramente più più interessante per quanto possibile visto che comunque abbiamo un po di dotazione tecnologica per intenderci l'automobile è esattamente questa la citroen c5 aircross se volete mentre io vi parlo potete comunque andare sul nostro sito www.gruppog.it una volta entrati all'interno del sito in alto a sinistra avrete la voce configuratore selezionando su configuratore vi appare un menu a tendina con tutti i nostri marchi che rappresentiamo potete selezionare citroen vi si aprirà una successiva pagina con tutti i modelli di citroen e da lì potete accedere a citroen c5 aircross e quindi vederlo e sfogliare un po alcune caratteristiche anche mentre vi vi parlo facendo un passo indietro rispetto alla presentazione della c5 aircross appunto vorrei raccontarvi un po la storia e l'evoluzione del marchio citroen cercherò ovviamente di essere sintetico non voglio assolutamente annoiarvi con un documentario stile piero angela e guarca assolutamente e non avrei probabilmente neanche le competenze per farlo però trovo giusto farvi conoscere cosa ci sia dietro ad un marchio che poi dà vita alle automobili che trovate in concessionaria per esempio dicendovi che innanzitutto il psa group di cui citroen parte anno avrà nel mondo oltre 200 mila dipendenti e nel 2018 ha raggiunto una produzione di veicoli di circa 4 milioni di unità quindi non stiamo parlando dell'ultimo gruppo automobilistico presente citroen e si nota come anzi aggiungo una cosa citroen è appunto parte del psa group il psa group racchiude peugeot citroen ds e opel che è stata acquisita negli ultimissimi anni prende il nome dal proprio fondatore andrea citroen come azienda automobilistica nasce nel 1919 quindi parliamo di un'azienda assolutamente centenaria e tutto sommato nell'economia di oggi non sono tante le aziende centenarie che possono vantare appunto cent'anni di riattività ma l'azienda nasce qualche anno prima rispetto al 19 perché nasce nei primissimi anni del novecento come azienda di ingranaggi tanto è vero che voi voi avrete ben presente lo stemma citroen che è praticamente la doppia diciamo doppia v rovesciata e quello stemma rappresenta praticamente rappresenta la visione degli ingranaggi di una ruota dentata quindi questo a simboleggiare proprio gli inizi della storia di citroen citroen appunto dicevamo è nota casa produttrice sin dal 1919 di auto ma dal 30 al 1939 attiva anche nella produzione di veicoli commerciali per cui quando verrete in in concessionaria da noi a trovarci potrete anche visionare tutto quello che è la gamma commerciale attualmente in listino presso appunto il marchio citroen parlando di automobili che hanno segnato la storia della citroen ma anche la storia dell'automobile mi piace ricordare la mitica citroen ds prodotta dal 55 al 75 per chi è un po più anziano o appassionato come media automobili ricorderà la citroen ds soprannominata lo squalo e vettura che tra l'altro nel 1957 venne premiata come opera d'arte industriale su grande scala questa voglio dire è un'onoreficienza di non poco conto dal punto di vista di stilistico e di riconoscibilità di un'automobile e poi anche la 2 cavalli vettura prodotta dal 1948 in ben oltre 4 milioni di esemplari e tra l'altro mi piace ricordare queste due vetture perché entrambe vennero diciamo vennero disegnate dalle dallo stilista italiano flaminio bertoni da tutti un po riconosciuto come lo stilista dell'automobile dal 1956 citroen è attiva anche nel settore delle corse automobilistiche soprattutto rally ma in realtà ha corso anche nei rally raid per intenderci la più famosa rally raid la parigi la carna ha corso appunto nei rally raid dal 1990 al 1997 dove è stata in grado di conquistare bene cinque titoli mondiali con il modello citroen zx rally che se riesco dal mio tablet sempre vi faccio visionare che era esattamente questa qui siamo precisamente tra l'altro alla car in questa immagine e dal 2014 al 2016 quindi pochi anni ma comunque in epoca recente citroen ha preso parte anche al vtcc che è il world tourism championship car cioè praticamente il campionato in pista riservato alle berline tra i volumi iniziò a correre tra l'altro nei rally proprio con la citroen nds dove al rally di monte carlo conquistò tra l'altro il titolo della della sua classe nel 1972 c'è un dato che mi piace ricordare perché sempre nel mondo delle corse citroen stabilisce un primato assoluto a livello mondiale quindi parliamo di 50 anni fa nominando a capo del reparto corse una una donna che fu marlene coton questo tra l'altro è importante ricordarlo perché tutt'oggi non sono certo tantissime le donne che lavorano nel settore racing e quindi è stata una in questo è stato assolutamente procursore il marchio citroen nel rally citroen è stata capace di vincere pensate ben otto titoli mondiali come casa costruttrice che la pone ai massimi livelli e sebastian loeb pilota più vittorioso di tutti i tempi nel mondiale rally ha vinto ben nove titoli consecutivi dal 2004 al 2012 ha vinto tutti i suoi titoli su vetture del marchio citroen tre titoli li vinse al volante della citroen xara vrc quattro titoli li vinse al volante della citroen c4 vrc e due titoli alla guida della citroen ds vrc se mi volete interrompere perdonatemi per fare delle domande fate chiaramente pure nel 2019 sempre nel campionato mondiale rally citroen è arrivata terza con il sei volte campione del mondo sebastiano g ufficialmente diciamo che per quest'anno in teoria citroen non dovrebbe correre ma purtroppo come sappiamo a causa del coronavirus è praticamente un po tutti i campionati sono assolutamente fermi se avete piacere vi invito a visitare il sito citroen origin.it dove trovate un po tutta la storia del citroen questa breve escursione nel mondo delle corse raccontandovi un po la storia della citroen ve l'ho voluta presentare non tanto per la mia passione delle corse che penso si possa intuire dall'amore con il quale ne parlo ma perché è bene guardare il settore del racing in quanto le case automobilistiche oltre ad investire decine e decine di milioni di euro l'anno sviluppano molta della tecnologia che poi troviamo nelle auto di tutti i giorni quindi il fatto che citroen da tantissimi decenni sia impegnata nelle corse ci fa comprendere la qualità e la tecnologia che possiamo oggi trovare su tutta la gamma di autovetture citroen che trovate nei concessionari perché questo lo dico anche perché molte persone sono convinte che le automobili siano tutte uguali composte da quattro ruote i sedili il volante il motore ma in realtà la costruzione di un'automobile questa di tutte le automobili quindi non solo citroen ma comunque in particolar modo citroen è frutto di tanta ricerca ed uso di tecnologie avanzate e di materiali assolutamente innovativi tanto è vero che se pensate le vetture di oggi sono più leggere di quelle di una volta allo stesso tempo sono anche molto più sicure e anche molto più prestazionali anche a livello di cavalleria sono decisamente prestazionali anche le automobili di tutti i giorni parlando di tecnologia inizio un po' ad introdurvi diciamo la nostra amata citroen c5 aircross le dimensioni non sono esagerate ne fanno una vettura quindi adatta anche all'uso cittadino ha una lunghezza di 4 metri e mezzo una lunghezza una larghezza perdonatemi di un metro e 95 quindi poco meno di due metri e un'altezza di circa un metro e 70 e quindi un SUV al 100% ci permette di fare anche delle piacevoli escursioni sullo sterrato un po' come tutti i SUV chiaramente ricordandoci che non è un fuoristrada pensato chiaramente per l'uso estremo è un SUV quindi un'auto che usiamo tranquillamente sulle strade tutti i giorni ma che ci consente anche rispetto magari a un'utilitaria di poter anche fare qualche strada non perfettamente asfaltata e andare anche in montagna in tutta tranquillità le sue linee muscolose e robuste se riesco ve li faccio sempre a vedere attraverso i potenti mezzi del tablet ha linee muscolose e robuste ma allo stesso tempo decisamente eleganti questo fa sì anche che l'automobile venga apprezzata anche da un pubblico femminile questo non è un dato di poco conto poiché visto che le SUV sono auto tendenzialmente diciamo acquistate per la famiglia quindi per un uso familiare il fatto di avere un'automobile che possa piacere a tutta la famiglia è un qualche cosa di assolutamente interessante tra l'altro sempre in tema di famiglia ovviamente i sedili sono dotati chiaramente tranne quello del guidatore sono dotati di attacchi isofix pratici chiaramente per l'attacco dei nostri seggiolini al sedile come dicevamo un design 100% Citroen grazie agli elementi grafici un po' che avete visto che vi ho fatto vedere attraverso tablet e che comunque potete vedere anche attraverso internet ha questi elementi grafici soprattutto che sono ad esempio costituiti dall'air bump posto sulle porte laterali come sul modello C3 che sono personalmente belli da vedere ma ad esempio anche comodi per attenuare quelli che possono essere dei piccoli urti laterali di posteggio per intenderci sono esattamente questi qua nella parte bassa della portiera l'auto tra l'altro ecco una cosa importante abbiamo questa caratteristica che viene ripresa da Citroen a livello stilistico e a livello di design voi vedete questa parte circolare la trovate anche nelle prese d'aria anteriori nei fari quindi viene stilizzata abbiamo un cosiddetto profilo AC sulla parte della carrozzeria e quindi insomma a livello anche stilistico è un'auto assolutamente molto ben pensata e molto ben disegnata l'auto è disponibile come tutta la gamma dei modelli di autovetture Citroen in tre allestimenti Live, Feel e Shine Live è diciamo il modello base modello base ma comunque ricco di dotazioni quindi per intenderci non abbiamo l'alzavetro a manovella come nelle autovetture degli anni 70 il prezzo di listino del modello base parte da 25.900 euro a cui però si andranno a sottrarre alcuni sconti che siamo in grado di riservarvi e che fra poco vi illustrerò poi abbiamo l'allestimento Feel che è quello intermedio e Shine che è l'allestimento Top diciamo che senz'altro è il SUV più confortevole del segmento grazie principalmente a due innovazioni esclusive di Citroen una le sospensioni a progressione idraulica e la seconda i sedili Advanced Comfort per quanto riguarda le sospensioni a progressione idraulica sono appunto un'esclusiva di Citroen Citroen è sempre stata attenta al comfort di guida non perché altre case magari non lo siano ma Citroen ha sempre fatto veramente un proprio cavallo di battaglia e già nella Citroen DS degli anni 50 avevamo le sospensioni idropneumatiche che davano un comfort appunto di guida sulla C5 Aircross troviamo le sospensioni con il fine corso idraulici progressivi unica auto ad utilizzare questa innovativa tecnologia che è appunto studiata per dare un comfort di guida e quindi filtrare al meglio le imperfezioni della strada tanto è vero che se ho fatto una ricerca su YouTube trovate anche un video interessante di un tester di non mi ricordo adesso quale magazine che effettua il test della vettura appoggiando un bicchiere d'acqua sul cruscotto della vettura e un bicchiere pieno d'acqua nel bracciolo che è posto tra il sedile del passeggero e il sedile del guidatore proprio per far vedere che ha un comfort assolutamente interessante l'autovettura e quindi in questo caso i bicchieri con l'acqua non si rovesciano poi ci sono appunto i sedili Advanced Comfort che vi citavo prima sono i più comodi delle concorrenti sostanzialmente perché lo spessore della schiuma quindi della schiuma del sedile ha un'imbottitura mediamente superiore di 15 mm rispetto alla concorrenza quindi questo ne fa una seduta assolutamente interessante per quanto riguarda i sedili dietro ora non ricordo se ho una foto a portata di mano ok per quanto riguarda i sedili posteriori qui tra l'altro li vedete nell'allestimento Shine che è appunto l'allestimento Top il divanetto posteriore è diviso sostanzialmente in tre sedili come vedete questi tre sedili consentono che cosa? di avere un divanetto che non va a ripiegarsi con la solita tendenzialmente misura 40-60 delle tradizionali auto ma il sedile è diviso sostanzialmente in tre sedili che si possono spostare oltretutto in maniera longitudinale quindi si possono spostare avanti e si possono ripiegare quindi questi hanno autonomia hanno un'autonomia sia appunto di spostamento che di poterli piegare immaginiamoci tra l'altro di viaggiare con la famiglia questo sicuramente è estremamente utile ma tra l'altro questa modalità di poter spostare i sedili anche in avanti consente di avere un bagagliaio che è veramente stabilisce un record nel proprio segmento il bagagliaio ha una capacità che va dai 580 ai 720 litri per farvi un paragone pensate che la Volkswagen Tiguan che è praticamente lunga o uguale ha una capienza di bagagliaio di 520 litri sempre parlando di rivestimenti interni abbiamo sulla versione live i rivestimenti in tessuto come optional sulla versione fill abbiamo la possibilità di avere il tessuto il tessuto più pelle o solo pelle e nella versione shine possiamo avere gli interni in tessuto pelle o solo pelle per finire poi non voglio tediarvi ulteriormente anzi spero di darvi delle informazioni comunque utili e apprezzate è dotata di 20 tecnologie di aiuto alla guida che tecnicamente vengono comunemente chiamate ADAS e 6 tecnologie di connettività ne fanno un SUV appunto e quindi come vedete di assoluta qualità le motorizzazioni disponibili sono due in realtà diciamo tre perché abbiamo il benzina con il 1200 3 cilindri 130 cavalli o il 1600 4 cilindri 180 cavalli la motorizzazione diesel 1500 4 cilindri 130 cavalli o 2000 4 cilindri 177 cavalli ma poi abbiamo anche in gamma la nuova versione hybrid plug-in con cambio automatico auto rapporti che tra il motore 1600 4 cilindri 180 cavalli e appunto il motore elettrico sviluppano l'auto una potenza complessiva di 225 cavalli con un'autonomia elettrica di circa 50 chilometri ed un tempo di ricarica piena della batteria di circa due ore tra l'altro la tecnologia hybrid plug-in è estremamente interessante perché consente la ricarica delle batterie quindi delle batterie del motore elettrico sia tramite il motore a combustione interna ma anche utilizzando fonti di energia elettrica esterna inoltre c'è un vantaggio dato dall'hybrid questo non esclusiva di Citroen C5 ma di tutte le vetture d'hybrid ad oggi consente ulteriori incentivi statali sulla rotamazione un'esenzione del bollo per i primi 5 anni l'accesso gratuito alle zone ZTL e il parcheggio gratuito nelle zone a pagamento visto che parlavamo prima perché vi citavo sulla plug-in del cambio a 8 rapporti per quanto riguarda la trasmissione quindi parlando del cambio è disponibile sia il cambio manuale sia il cambio automatico di nuova generazione a 8 rapporti abbinabili alle motorizzazioni o benzina o diesel quindi abbinabili a qualsiasi versione inoltre in ultimo per chi avesse specifiche esigenze diciamo di tipo lavorativo quindi non solo familiare vi ha la possibilità con un kit di trasformazione autocarro che ha un prezzo di acquisto intorno ai 1400 poco meno di 1400 euro è appunto possibile trasformare la vettura in autocarro disponibile però per le sole motorizzazioni diesel o benzina 130 cavalli veniamo all'offerta che abbiamo pensato di riservare a tutti voi al link tra l'altro che vedrete indicato qui sotto al video potete cliccare per prenotare l'auto o richiedere tutte le info in merito abbiamo pensato di proporvi la Citroen C5 Aircross con allestimento live e tinta carrozzeria Pirlo White quindi bianco perla che secondo me è un colore molto interessante per questo tipo di vettura avrebbe un prezzo di listino di 27.000 euro composto dall'auto più la tinta carrozzeria il prezzo che invece vi abbiamo deciso di riservarvi è un prezzo scontato di 21.500 euro esclusa IPT IPT non lo applichiamo noi è una tassa che viene applicata e cambia in base al comune di residenza per cui non siamo in grado di integrare l'IPT qualora il cliente non ci indichi ovviamente il luogo di residenza siamo in grado appunto di riservarvi questa offerta applicandovi uno sconto sulla vettura rispetto al prezzo di listino di 3.000 euro che viene fornito da noi quindi sono soldi che ci mettiamo noi viene fornito da noi e da Citroen più un extra sconto sul ritiro del vostro usato o rotamazione pari a 1.000 euro più un ulteriore sconto di 1.000 euro aderendo alla formula Simpli Drive che in sostanza è il modo migliore per acquistare una Citroen come funziona questa Simpli Drive il prezzo dell'auto viene in sostanza diviso a metà la prima metà la potete pagare la pagate con un minimo di 24 massimo 48 rate decidendo se dare o non dare un anticipo al momento dell'acquisto dell'auto l'anticipo ovviamente non farà altro che abbassare le eventuali rate allo scadere del piano rateale decidete se sostituire restituire ottenere l'automobile nel caso otteniate la vettura potete saldare o rifinanziare l'importo rimanente quindi come vedete è il modo migliore per acquistare una Citroen mi pare che non ci siano domande se ci sono domande appunto come dicevo prima ponetemele pure se invece non ce ne sono vi ringrazio di essere stati con noi spero appunto di non avervi annoiato ma di avervi dato delle informazioni utili e per ogni esigenza ci potete contattare ai riferimenti telefonici o mail che trovate all'interno del nostro sito grazie e arrivederci a più presto da noi in concessionaria e mi raccomando state chiusi in casa grazie grazie grazie